Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta con la nostra rassegna stampa e allora iniziamo subito con la prima della Gazzetta dello Sport che ci va a riassumere un po' le notizie principali della domenica ovviamente da un punto di vista sportivo e fa notizia la sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Bologna. Ecco l'apertura della Gazzetta dello Sport, fischi a San Siro, il Bologna vince 1-0, ultima spiaggia, Inter disastro, impresa Mijailovic al debutto, Spalletti in bilico e sconfortato, se non fai punti vai a casa. Sabato a Parma è decisiva e poi vediamo il commento di Andrea Di Caro, quei fantasmi sulla strada per la Champions, adesso per Luciano Spalletti il problema non è più difendere la panchina del prossimo anno dal fantasma di Antonio Conte. e poi le pagine interne con tutti gli articoli, Sprofondo Inter, ancora i titoli nelle primissime pagine della Gazzetta dello Sport. Andiamo di spalla e vediamo la partita fra Roma e Milan, Piontek c'è, Milan su Guizzo Polacco, Zaniolo fa l'1-1 e tanta Roma. Lo spareggio Champions lascia i rossoneri al quarto posto, rigore negato a Suso, Donna Rumma, Super. E poi vediamo per quanto riguarda la Juve, la Juve le sue crepe ma Bonucci e Chiellini tornano con l'atletico. Guaio difesa scrive la Gazzetta, risorsa Mandzukic, qui si guarda già ai prossimi impegni europei della Juve, ma andiamo a vedere adesso anche con l'aiuto della regia, della grafica, tutti i risultati di questa giornata di campionato che si deve ancora concludere, che era iniziata sabato con il pareggio per 2-2 tra Empoli e Chievo, poi la vittoria del Napoli sulla Sampdoria per 3-0 e il pareggio fra Juventus e Parma 3-3. Ieri hanno giocato Spal-Torino 0-0, Genoa-Sassuolo 1-1, Udinese-Fiorentina 1-1 e poi la vittoria del Bologna-Milano contro l'Inter per 1-0. 1-1 tra Roma e Milan, quest'oggi giocheranno Frosino-Nelazio alle 19, Cagliari-Atalanta alle 21. Andiamo a vedere anche la classifica che vede ancora, è sempre in testa la Juventus con 60 punti, poi vediamo il Napoli a 51, l'Inter a 40, Milan e Roma a 35, poi Sampdoria a 33, Atalanta e Lazio a 32, Fiorentina e Torino 31, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 24, Spal 22, Cagliari 21, Udinese 19, Empoli 18, Bologna 17, Frosinone 13 e Chievo 9 punti. Questi dunque i risultati principali della domenica calcistica, andiamo adesso a parlare di Udinese, poi andremo a vedere anche le prime di Corriere dello Sport e di Tutto Sport, ma adesso andiamo nelle pagine interne proprio della Gazzetta dello Sport e andiamo a vedere anche come viene raccontata la gara tra Udinese e Fiorentina che si è giocata ieri alla Daccia Arena, ma prima di vedere l'articolo della Gazzetta andiamo a vederci le immagini, i due gol di Udinese e Fiorentina nel nostro servizio. È un Udinese tutta cuore grinta, quella che ottiene un punto importante alla Daccia Arena contro una lanciata fiorentina. Nicola ripropone il tandem pussetto De Pauli in avanti e fa debuttare De Maio in difesa al posto di Opoku. Dall'altra parte Pioli tiene fuori Simeone schierando Miraias dietro Chiesa e Lex Muriel in avanti. Al minuto dodicesimo è subito l'Udinese a sfiorare il vantaggio con un'azione magnifica avviata da Mandragora e non concretizzata per un soffio da De Pauli che salta come un birillo Milenkovic ma che manca di centimetri la rete. I bianconeri giocano meglio in avvio di gara, la Fiorentina però quando esce dal guscio rischia di far male come al minuto ventiseiesimo quando sul traversone di Biraghi svetta Pezzella ma il connazionale Musso si supera con una parata prodigiosa. Il finale di prima frazione è ancora targato Udinese con lo scatenato pussetto che sull'apertura di De Paul beffa Veretù e si mette in condizione di battere verso la porta centrando però solo l'esterno della rete. All'intervallo Pioli corre ai ripari mettendo da parte lo spento Miraias e inserendo Simeone ma in apertura di ripresa viene colpito a freddo. All'undicesimo infatti da calcio d'angolo per la Fiorentina nasce una ripartenza fulminante dell'Udinese con pussetto che approfitta della leggerezza di Veretù e parte in campo aperto. L'argentino è contenibile, calcia ma viene rimpallato da Laurini, la palla diventa buona per Struggen Larsen che non sbaglia e batte la fonte per l'1-0 dell'Udinese. Primo gol stagionale per il danese che vede ripagate una serie di buone prestazioni anche con la prima gioia in campionato. La Fiorentina ha incassato il colpo e inizia ad attaccare a testa bassa ma non trova alcun varco nonostante l'ingresso di piazza. Serve solo un jolly per rimettere in piedi e il jolly lo pesca al minuto 65esimo Fernandes quando dopo un primo tiro di Muriel aggancia e batte a rete pescando l'angolino alla destra di Musso. È 1-1 con i viola che rimediano grazie alla bella giocata dello svizzero autore di una rasoiata precisa su cui Musso non può nulla. Le squadre si allungano e nel finale ci sono occasioni per entrambe. Prima tocca a Chiesa provare per due volte a battere a rete ma Musso non si fa sorprendere. Poi l'Udinese ha un'altra opportunità per rimettersi avanti ma Pussetto è sfortunato centrando ancora all'esterno della rete. L'ultimo brivido arriva al 93esimo quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo il neon tratto Ceccherini stacca di testa ma Musso gli sbatte ancora la porta in faccia. Finisce 1-1 l'Udinese si rialza dopo due sconfitte di fila rendendosi protagonista di una bella prova e conquistando un pareggio che muove la classifica e che dà consapevolezza alla squadra in vista della trasferta di Torino. Rientriamo adesso in studio, andiamo sulla Gazzetta dello Sport e andiamo a leggere il titolo. Udinese e Viola spente, gli unici brividi sono per il ricordo di Astori. Brutto primo tempo, la gara si accende solo per i gol di Larsen e Fernandez. La fiorentina scossa da chiesa si sveglia tardi. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Andiamo a leggere adesso le prime righe dell'articolo dell'inviato della Gazzetta a Udine. La partita del ricordo di Davide Astori non ha altri motivi per restare nella memoria. Il coro dei tifosi Viola per il loro capitano scomparso 11 mesi fa, accompagnato dal commosso applauso di tutti gli spettatori, è il mio momento più significativo di un pomeriggio che dal punto di vista calcistico è stato invece brutto ed eludente. Udinese e Fiorentina hanno giocato malissimo nel primo tempo e solo leggermente meglio nella ripresa, sprecando un'occasione importante per avvicinare i rispettivi obiettivi. E poi vediamo l'articolo che prosegue, anche le pagelle per quanto riguarda l'Udinese. Il migliore è Larsen, 6,5 per lui secondo la Gazzetta dello Sport, 6,5 anche per Fernandes nella Fiorentina, i due marcatori della partita di ieri. Andiamo sui quotidiani locali adesso. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero Veneto e andiamo a leggere assieme il titolo di apertura. Udinese con un pari non si gode, zona retrocessione a due punti, titola il messaggero segnalarsen, 1 a 1 della Fiorentina che poi sbatte su musso e in serata il blitz del Bologna che accorcia le distanze. Abbiamo già visto la classifica prima assieme. E poi vediamo nella pagina accanto il film della partita con l'errore di Rodrigo all'inizio. E poi vediamo ancora tutto il racconto della partita. E poi vediamo il punto di Antonio Simeoli che dice Senza tifosi non si va da nessuna parte, pareggino e pessimo clima, fosche e nubi di spalla. Ci sono i commenti dei protagonisti, la soddisfazione di Larsen, sono contento per il gol, abbiamo giocato con il cuore. Tra poco andremo a sentire i commenti proprio dalla viva voce dei protagonisti. Adesso però ci fermiamo un attimo e apriamo il collegamento esterno, il primo collegamento con il nostro David Zanirato che si trova a Pradamano. Buongiorno David. Buongiorno a te Angela e ai nostri telespettatori. Sì, stamattina siamo venuti qui in comune di Pradamano per affrontare un tema spinoso, quello della viabilità e dei tanti incidenti che si verificano lungo la strada regionale 56 che da Udine collega a Gorizia attraversando i comuni di Pradamano e poi Butrio, Manzano, San Giovanni fino a Cormons. Accanto a me c'è il sindaco di Pradamano Enrico Mossenta, a lui chiediamo innanzitutto, mentre potrete vedere tra poco il grande traffico su questa arteria, che cosa ci serve qui su questa strada per evitare proprio i tanti incidenti che ormai si registrano quasi quotidianamente. Buongiorno innanzitutto a tutti quanti, su questa strada serve una rivisitazione di quello che è il sistema viabilistico, una rivisitazione che nei nostri piani, nel piano del comune, nel piano regolatore era già stata proposta e che sappiamo che la regione ha ripreso in carico con uno studio complessivo della strada regionale 56 nella speranza che questo sia un progetto che possa proseguire, fare i propri passi e iniziare a descrivere un nuovo sistema viabilistico che nelle nostre idee, nelle nostre progettazioni, è quella di costruire un'arteria viabilistica con due corsie per senso di marcia. Due corsie per senso di marcia permetterebbe la velocità lenta, la velocità più sostenuta, con le rotonde come elemento per distribuire il traffico alle attività commerciali. Questo è molto importante perché le attività commerciali subiscono fortemente la crisi dovuta a una viabilità che ha delle forti criticità, come dicevate voi, insomma uno o due incidenti a settimana qui si verificano soprattutto nel periodo, nei momenti di pioggia, è il momento più critico in cui succedono incidenti che più delle volte non portano gravi conseguenze, ma sicuramente bloccano il traffico e sicuramente rendono poco appetibili la posizionamento di attività commerciali su questo tratto di Pradamano. Tra poco ci sposteremo più a nord per farvi vedere il punto nero, il punto più critico, ma Sindaco, questi guardrail che abbiamo qui alla nostra destra erano stati fatti solo circa dieci anni fa, quindi si è intervenuto recentemente su questa arteria, forse non lo si è fatto con criterio? Si è intervenuto proprio con la nascita del centro commerciale Bennett, venne realizzata questa struttura da parte dei privati come indicazione e prescrizione dell'ANAS ai tempi e molto probabilmente quella prescrizione era una prescrizione errata sulla quale avevamo posto le nostre critiche perché queste strutture sono state realizzate interamente con fondi privati. Forse sarebbe stata una cosa molto più sensata e molto più utile per lo sviluppo di tutto il territorio realizzare quel progetto che descrivevamo prima e abbandonare una struttura del genere che proprio è d'ostacolo a quelle che sono le attività commerciali, essendo questa una via commerciale, creare queste strutture è sicuramente controproducente e un controsenso per tutti quanti. Allora Angela, noi ci spostiamo a farvi vedere tra poco il punto critico qui sulla strada regionale 56, per il momento ti restituiamo la linea. Grazie, grazie a Davide Zaniratto, al sindaco di Pradamano. Adesso a proposito di viabilità, subito il collegamento con la centrale operativa della Polizia Locale. Al telefono con noi abbiamo il vice ispettore Sandro Favotto, buongiorno. Sì, buongiorno. Il traffico piuttosto sostenuto caratterizza questo avvio di settimana il transito lungo le principali direttrici della città. Ciò però non sta comportando al momento alcun tipo di criticità in corrispondenza dei principali snodi. Nel proseguo odierno non dovremo avere problematiche particolari riguardo alla viabilità dovute a cantieri stradali, attività ecosimilari, null'altro per oggi. Ecco, buona giornata a tutti voi. Perfetto, grazie allora al vice ispettore Sandro Favotto per questi aggiornamenti. Situazione tranquilla anche per il traffico in città in questo avvio di settimana. E allora torniamo a parlare di Udinese, torniamo sulle pagine del Messaggero Veneto. Eravamo rimasti alle parole di Larsen, soddisfatto per il gol. Abbiamo giocato con il cuore, ha detto il giocatore bianconero. Era importante reagire dopo la brutta prova con la Sampdoria. Allora andiamo a sentire proprio le parole di Struger Larsen al microfono di Jacopo Romeo. Allora Jens, un risultato importante, un pareggio contro una squadra forte come la Fiorentina. Sì, la Fiorentina è una forte squadra, è un po' alza di più della nostra fisica. Ma è importante oggi chiusare la porta dietro. Non so, tante, come si dice, chances for... Non molte occasioni da gol. Sì, ma oggi voglio un po' di più del nostro campo solo chiuso e un po' di transizione. Sì, transizione, bravo. Sì, ma oggi un punto va bene. Un punto arrivato con il tuo gol. Sei contento di questa rete che arriva dopo tante belle partite che hai giocato? Sì, ma io sono contento per il gol, per la mia squadra. Sì, ma sì, è un punto oggi va bene. Ma dopo la partita con Sampdoria, solo di 20-25 minuti, il primo tempo va per meglio. Ma oggi va importante per noi giocare con la cora e con il nostro colore. Andiamo a leggere anche le parole di Berami ed Alessandro. Un punto di partenza, dicono. Sono partite che ti danno fiducia e consapevolezza. Il punto è buono. Queste le parole di Valom Berami. E invece poi, per quanto riguarda Ad Alessandro, c'era chiesa dalla mia parte. Con l'aiuto di Noiting abbiamo lavorato bene. Dovevamo stare molto attenti. Questa Fiorentina aveva demolito la Roma. Poi ecco il senso del pari per l'ex Atalantino. Questo deve essere un punto di partenza per noi. Per essere uniti e sacrificandosi l'uno per l'altro. C'è stato lo spirito giusto ed è stata una buonissima partita che avremmo anche potuto vincere. Voltiamo pagina e andiamo a leggere anche le parole di Mister Nicola. Promuove tutti, squadra, tifosi e depol. Se giochiamo di collettivo possiamo fare bene. Rodrigo, mi è piaciuto molto. Alla fine abbiamo applaudito il nostro pubblico perché per noi è imprescindibile. Andiamo a sentire anche le parole di Mister Nicola. Lei aveva detto che la prerogativa di questa mia Udinese è quella di essere stata sempre squadra, tranne che a Genova. Oggi direi che si è rivista una squadra eccome fornendo una prestazione molto importante contro una Fiorentina. Non solo forte oggettivamente ma anche in un momento di forma eccezionale. Sì, per la verità, proprio per essere corretti, anche 20 minuti della parita in casa contro una schiacciassassi come l'Atalanta. Lo avevamo fatto bene fino al pallo di Fofanà e poi ci eravamo disuniti. È accaduto di nuovo contro la Sampdoria, però lì l'abbiamo fatto per un'ora. E quindi sono le due verità che dico sempre ai ragazzi. Noi quando giochiamo da squadra e riusciamo ad essere compatti, ordinati e esaltiamo anche le nostre caratteristiche. Per il momento che stiamo attraversando, per la posizione di classifica che abbiamo bisogna essere estremamente attenti, concentrati, lucidi, pratici. E come abbiamo visto può anche accadere, perché è quello che vogliamo, di poter magari condurre le danze anche contro una squadra come la Fiorentina, come è accaduto per il primo tempo. Mi spiace solo non aver concretizzato prima su un'occasione clamorosa che abbiamo avuto. Non è di merito di Rodrigo, è sicuramente una grande occasione che si è creata e poi ci sono anche gli avversari. Però sarebbe stato interessante vedere come sarebbe andata la partita da lì in poi, anche se poi abbiamo trovato il gol su una ripartenza da calcio d'angolo. Quindi immaginate c'era successo contro il Parma, succede anche agli altri. La cosa fondamentale, secondo me, di questo tipo di partita di oggi è aver dimostrato a tutto l'ambiente che noi siamo assolutamente qui per lavorare e poter far bene. E questo è quello che ci preme, soprattutto per i tifosi che abbiamo. Soprattutto è un bel segnale da un punto di vista psicologico, perché magari qualcuno da fuori poteva pensare che i quattro gol incassati a Genova potessero incidere anche sul morale dei ragazzi. Invece no, si è lavorato bene in settimana, anche e forse soprattutto in tal senso, perché oggi la squadra ha giocato con la testa e con il cuore. E questo credo sia un fattore importante da sottolineare, no? Questo è un dubbio, ma per fare una grande prestazione ci vogliono tre componenti. Che è il sapere cosa devi fare dal punto di vista tattico, chiaramente sorretto dalla forza delle gambe, quindi dalla capacità di accompagnare le azioni per i 95 minuti, e soprattutto la lucidità e la capacità di gestione delle emozioni e di quello che devi fare attraverso la testa. Senza una di queste componenti diventa difficile essere competitivi a certi livelli. Ripeto, noi quando giochiamo così esaltiamo anche il singolo giocatore. Quando invece pensiamo di risolvere le cose individualmente, possiamo andare più in difficoltà. Quello che mi preme adesso, in questo momento, è che ci eravamo detti qualcosa prima della partita e ce lo siamo di nuovo dimostrato. Noi se siamo questi possiamo fare qualcosa di importante. Mister, in chiusura un flash anche sul debutto positivo di De Maio, che è uno degli ultimi arrivati al mercato, oggi è stato chiamato in causa da titolare, si viene disimpegnato. Sì, per la partita poiché era avevamo bisogno di un giocatore che interpretasse bene i movimenti di una linea difensiva a tre, in questo Sebastane è sicuramente un giocatore già abituato, avendo giocato per diversi anni. Abbiamo bisogno anche di crescere dal punto di vista della personalità in campo, nella lettura di certe situazioni. Oggi ha fatto la sua parita come tutti, ma quando si fa una parita così di squadra è difficile che il singolo giocatore possa in qualche modo non risultare importante. E ancora vediamo anche le parole della società, con Prade che ha detto ragazzi incommiabili, riconquisteremo la nostra gente. E la rubrica, la mia domenica, di Bruno Pizzul, viola velenosa, partita interpretata nel modo giusto. Andiamo a scorrere velocemente anche le pagelle, il migliore è Pussetto, sette per lui, è riuscito praticamente a tenere in allarme la difesa della Fiorentina, gran sponda di testa per Fofanà, un destro sull'esterno della rete e poi il coast to coast con il fortunato assist per Larsen. Sette anche per Musso, sei per De Maio, sei e mezzo per Ekong, sette per Noiting, sei e mezzo per Larsen, insufficiente Fofanà, quattro e mezzo per lui, sei per Berami e Mandragora e anche per Okaka, sette per D'Alessandro, cinque per De Paul. Tra Iviola, Pezzella sfiora il gol, Muriel combina poco, cinque per l'ex bianconero. Andiamo a vedere anche la pagina successiva, dove troviamo invece un articolo che ci riferisce delle proteste dei tifosi, proteste silenziose, il Friuli e di Ghiaccio, un silenzio di 95 minuti, poi il coro della Nord, il progetto dove. Chiudiamo adesso le pagine del Messaggero Veneto e prima di passare su quelle del Gazzettino per continuare a parlare di Udinese, ritorniamo dal nostro David Zanirato che assieme al sindaco di Pradamano per parlare della viabilità, viabilità molto rischiosa nella zona in cui si trovano. A voi la linea David. Sì Angela, siamo saliti quasi al confine proprio tra i comuni di Pradamano e di Udine, sempre in compagnia del sindaco Enrico Mossenta. Attualmente il traffico si è leggermente defluito, il picco di punta dicevamo è più o meno tra le 7.30 e le 7.50, però i problemi come dicevamo prima restano e qui è proprio il nodo da risolvere. Sì, questo è uno dei nodi da risolvere su questa viabilità. L'idea che è stata mostra già nelle fasi progettuali è quella di realizzare una rotonda proprio all'uscita dalla tangenziale all'ingresso di questa che è una via commerciale per rallentare il traffico, per far defluire le macchine verso quelle che sono le attività commerciali in sicurezza e tranquillità. È uno degli elementi forse fondamentali su questa viabilità, uno degli elementi che manca per risolvere i problemi della viabilità su questo tratto, oltre a quelli che dicevamo prima sicuramente. C'è poi un altro problema, una bretella di cui si parla da tempo, c'erano fondi stanziati dalla provincia già 15 anni fa, ovvero la tangenziale Est che scende da Povoletto per arrivare proprio qui a Pradamano. Sì, la provincia ai tempi aveva a disposizione circa 8 milioni di euro per realizzare questa tangenziale Est che poteva far defluire quello che era il traffico che viene dal nord di Udine verso questa parte del territorio. Questi soldi sono passati in questo periodo, in queste fasi alla regione. C'è in questo momento un blocco totale di quelle che erano anche le fasi progettuali per una rivisitazione di cui non conosciamo però quelli che possono essere poi gli sviluppi allo stato attuale sono sconosciuti e le amministrazioni comunali sono bloccati in attesa di un nuovo progetto che dovrebbe andare a risolvere anche quelli che sono il flusso di traffico che attraversa il comune di Pradamano e che purtroppo su via Mazzini passa proprio a ridosso del centro abitato creando non pochi problemi ai residenti e a chi si muove sul territorio comunale. Speriamo che anche questa fase venga conclusa e venga conclusa anche con un lavoro particolare oltre a quello che riguarda il territorio di Pradamano ma venga risolto anche su questa rotonda l'ingresso su questa rotonda che tante volte all'incrocio fra Pradamano e Papparotti crea incidenti anche in questo caso molto probabilmente più gravi di quelli che si creano sulla stessa strada regionale 56 anche molto più rischiosi diversi di loro lì hanno rischiato fortemente la vita. A proposito di strade invece quelle realizzate ce n'è una poco più a sud di noi quella che porta a Premariacco che funziona? C'era stato un punto di domanda negli anni dopo che era stata realizzata? Non so se funzioni non penso che funzioni molti di loro e molti degli amministratori e molti soprattutto di quelli che sono gli automobilisti o abitanti di queste zone si chiedono qual è la funzionalità di questa bretella che porta a Premariacco sicuramente una parte del traffico viene alligerito soprattutto per il comune di Butrio però dal punto di vista della funzionalità e delle dimensioni che se stessa ha molto probabilmente è ridondante molto probabilmente è inutile per quelli che sono gli sviluppi e quelli che sono invece i problemi viabilistici di questo territorio comunale e forse questi sono veramente dei soldi che potevano essere investiti proprio su questa tematica sulla strada regionale 56 avrebbero comportato lo sviluppo maggiore anche di tutta la strada regionale 56 sia per i comuni di Pradamano, di Butrio e quelli che seguono fino a Gorizia Allora speriamo di aver lanciato un assist a chi deve decidere e lavorare proprio per evitare che qui si ripetano gravi incidenti stradali da Pradamano è tutto a te Angela Grazie a Davide Zanirato e a Francesco Tecchio oggi in esterna per questo collegamento Adesso apriamo un'altra parentesi quella dedicata al meteo alle previsioni del tempo assieme a Marcellino Salvadori in collegamento con noi al telefono dall'Osmerarpa Buongiorno Buongiorno diciamo che il giorno della svolta questa notte l'aria umida è stata sostituita da quella più secca di Bora attualmente sta soffiando Bora sostenuta a Trieste con raffica intorno agli 80 km orari quindi il cielo sereno tutto il giorno sostanzialmente con temperature piuttosto basse in quota visto che abbiamo meno 10 attualmente sull'Ussale Zoncolan e durante il giorno lo zero termico rimarrà intorno agli 800-1000 metri quindi piuttosto freddo in quota temperature invece che salgono per quanto riguarda soprattutto la pianura arriveranno intorno agli 11 gradi oggi nel primo pomeriggio nella notte prossima ancora freddo con temperature che vanno sotto zero sotto la pianura probabilmente e invece in montagna i valori molto bassi soprattutto nelle zone innevate visto che la neve irraggia molto di notte col cielo sereno si potrà andare intorno ai meno 10 anche meno 15 da dire però che da domani lo zero termico sale molto si andrà verso i 2000 metri domani pomeriggio dallo zero termico questo ovviamente dovrebbe produrre un aumento del rischio valanghe soprattutto per domani ma per questo vi invito a seguire le indicazioni dell'Ufficio Valanghe sul sito della Regione per avere in merito delle informazioni più precise il bel tempo rimarrà anche nei prossimi giorni quindi martedì mercoledì anche giovedì tutti con cielo sereno finalmente dirà la gente diranno tutti con temperature massime gradevoli intorno ai 10-12 gradi su pianura e costa però di notte vi saranno le gelate in pianura tipiche diciamo di febbraio quindi finalmente molto sole sulla nostra regione dopo tre giorni in cui se ne è visto veramente poco grazie grazie Marcellino Salvador per queste previsioni del tempo ritorna dunque un po' di sole in Friuli Venezia Giulia ci sentiremmo di nuovo domani con i previsori dell'Osmerarpa per tutti gli aggiornamenti adesso ritorniamo sulle pagine dei quotidiani locali abbiamo lasciato il messaggero Veneto andiamo sul gazzettino e vediamo anche qui i titoli dedicati alla nostra Udinese dobbiamo crescere in personalità Nicola dice se giochiamo lucidi e compatti possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario ora bisogna migliorare Prade tutti si sono impegnati e riconquisteremo i tifosi in una partita non come le altre per il vivo ricordo di Davide Astori e la silenziosa contestazione dei tifosi di casa l'Udinese inverte la rotta dopo la disastrosa trasferta di Genova dimostrando di poter essere cliente scomodo per ogni squadra anche se la classifica alla luce della sorprendente vittoria del Bologna sull'Inter fa sempre lampeggiare l'allarme rosso è questo l'attacco dell'articolo del gazzettino andiamo a vedere anche qui le pagelle vediamo un 6,5 per Musso e un 7 per Struger-Larsen anche secondo il gazzettino il migliore ieri in campo rimaniamo sul messaggero Veneto e andiamo a vedere velocemente anche i titoli che riguardano il Pordenone Pordenone colpo di Reni la promozione in Serie B passa dall'ultimo sforzo a partire da sabato le sfide decisive tutte in trasferta i 9 punti di vantaggio sulla seconda sono rassicuranti l'Ovisa ha elogiato il carattere e poi nelle pagine interne l'Ovisa inquadra la B altro titolo in primo piano eccolo qua il presidente del Pordenone contro Limolese ho rivisto i miei lo sguardo della Tigre così possiamo centrare l'obiettivo storico le avversarie sono lontanissime solo la Triestina mantiene uno svantaggio a una cifra stiamo calmi dice ma la squadra ma la strada è buona chiudiamo il gazzettino e ritorniamo adesso sulle pagine del messaggero veneto andiamo a vedere assieme anche qui i titoli dedicati al Pordenone solidità cattiveria e cinismo le doti giuste per salire in B avevamo il sangue negli occhi così Ciurria dopo la vittoria su Limolese Triestina a meno 9 Feralpi a meno 12 Monza e Fermana a meno 13 un tesoretto da gestire e sabato il Vicenza che domani andrà a Salò per la Coppa si gioca sabato alle 16 e 30 e 30 a Vicenza con il dubbio Misuraca che aspetta la diagnosi intanto scalpita Zammarini potenziale titolare in mezzo Misuraca è dovuto uscire all'inizio del secondo tempo della partita di sabato per un dolore al flessore tra domani e mercoledì sarà sottoposto agli esami Ancora per quanto riguarda il messaggero veneto andiamo a parlare di basket andiamo a parlare di GSA che ieri ha vinto in trasferta a Ravenna un successo importante che mosaico perfetto la GSA batte Ravenna Udine parte male non affonda e ribalta tutto nella ripresa Pinton chiude i conti con un viaggio glaciale dalla Lunetta questo è il titolo del messaggero veneto mentre possiamo vedere anche alcune immagini dei canestri della gara di ieri leggiamo le prime righe dell'articolo di Giuseppe Pisano che scrive la GSA scaccia il mal di trasferta passa per la prima volta sul parquet dell'ora Siravenna e conferma di essere rinata un ottimo secondo tempo ha permesso ai friulani di ribaltare il punteggio dopo un primo tempo Scialbo brava Udine a tenere la barra dritta nei momenti difficili nonostante la prolungata assenza di Powell e bravo coach Martellossi che ha saputo toccare le corde giuste di questo gruppo ora la GSA ha una sua fisionomia precisa non è più una squadra dottor Jekyll e mister Hyde e poi vediamo anche qui le pagelle il migliore penna sette e mezzo per lui poi Pinton e Nikolic da applausi sette e mezzo anche per loro Simpson sei Cortese sei e mezzo Mortellaro sei sei e mezzo Pellegrino cinque e mezzo Spanghero e in primo piano poi anche le parole di Martellossi che dice che spiazza tutti e dice l'abbiamo vinta nei primi quindici minuti ancora le parole del presidente Pedone una prestazione corale e Davide Mikalic che dice la chiave è stata la difesa ecco qua il titolo del messaggero Veneto andiamo a vedere adesso con l'aiuto della grafica anche gli altri risultati di questa giornata di campionato che ha visto la vittoria di Montegranaro contro Forlì 84 a 72 poi a Sigieco Piacenza Verona 72 a 59 Cagliari Ferrara 85 a 86 Imola Mantua 103 a 98 Ravenna GSA 64 a 68 Roseto batte Beccheri Piacenza di 1 101 a 100 Treviso contro 100 finisce 92 a 49 questa sera si giocherà la gara tra Bologna e Iesi in testa la classifica abbiamo sempre la fortitudo con 34 punti in attesa ovviamente anche del match di questa sera poi Montegranaro a 32 Treviso a 30 Lapiu a 24 Verona a 22 assieme a Forlì Imola 20 Roseto 18 e via via poi tutte le altre il prossimo turno vedrà Lapiu in casa contro Piacenza rimaniamo sul messaggero Veneto e andiamo a dare un'occhiata anche ai risultati del calcio delle serie minori per quanto riguarda la serie di arriva la vittoria impossibile scrive il messaggero Veneto quella del Tamai contro l'Adriense un testa coda che ha visto la vittoria in casa del Tamai per 1 a 0 ecco la vittoria impossibile il Tamai ora spera nei play out la squadra di Bianchini trova il successo su rigore contro la capolista non vinceva in casa dal 29 aprile e ora l'ultimo posto in classifica fa meno paura vediamo anche il la sconfitta interna delle Chiarlins Muzzane contro la Virtus Bolzano 2 a 3 risultato finale il Chiarlins Muzzane reagisce tardi e cade con la Virtus Bolzano e invece il maltempo ferma il Chions che ieri non ha giocato contro il Belluno proprio a causa del maltempo si recupera il 13 mercoledì 13 febbraio alle 14 e 30 facciamo un salto anche in eccellenza e andiamo a vedere anche qui i risultati delle partite vediamo la vittoria del Fontana Fredda sul Lumignacco 2 a 0 continua il momento magico dei rossoneri che nelle ultime tre partite hanno collezionato punti importanti i rossoneri del Fontana Fredda che si impongono nella ripresa con le reti di Lisotti e Zambusi e poi vediamo ancora il Lignano che batte in casa il Flaibano per 4 a 2 il Lignano ribalta il Flaibano torna a vincere dopo 10 KO un pareggio 1 a 1 tra Manzanese e Fiume Bannia Paciulli risponde a Tacoli la Manzanese non passa andiamo nella pagina accanto e vediamo la sconfitta della Progorizia che quindi perde terreno e si allontana dalla prima le polemiche poi il Ronchi e la Progorizia finisce travolta gli zontini al centro dell'attenzione per le sanzioni del giudice sportivo cedono in casa nel derby scivolando così a 10 punti dalla vetta della classifica è finita 3 a 1 per il Ronchi vince il San Luigi in orbita per la D Albrian solo gli applausi 3 a 1 per la capolista sconfitta interna per il Torviscosa che perde in casa contro la Juventina per 2 a 1 Fiorenzo e Romanelli fanno la festa al Torviscosa fine il pareggio tra Gemonese e Cordenons 2 a 2 doppio scatto della Gemonese ma il Cordenons non si fa staccare e vediamo la vittoria in trasferta del Crass a tricesimo tricesimo per un tempo poi lo show è del Crass questi i risultati andiamo a vedere velocemente anche la classifica dell'eccellenza con in testa il San Luigi e la Progorizia che perde terreno ecco qua San Luigi 49 Progorizia 39 Brian 34 Troviscosa 33 assieme a Ronchi e via via tutte le altre chiudiamo questa pagina del Messaggero Veneto e chiudiamo anche questa prima parte questa seconda parte della nostra rassegna stampa adesso ci fermiamo ci fermiamo per un po' ci salutiamo con il consueto accade oggi a cura di Guido Gomirato prima però vi ricordo la nostra prima serata come ogni lunedì dedicata al Tonight in compagnia di Giorgia Bortolossi e dei suoi ospiti vediamo alle 19.30 ce lo ricorda la nostra locandina all'appuntamento con Salute e Benessere un programma cura di Francesco Pezzella con il professor Unberto Tirelli noi invece ci rivediamo alle 11 per la prossima edizione del nostro OTG per la nostra finestra informativa dedicata a tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport accade oggi ci rivediamo alle 11 esattamente un anno fa il 4 febbraio del 2018 Udinese e Milan pareggiano 1 a 1 alla Dazzarena perché ricordo quella partita perché dopo la sfida con i rossoneri l'Udinese entra in crisi una grave gravissima crisi caratterizzata da ben 11 sconfitte consecutive che spingono l'Udinese verso il Baratro fortunatamente la squadra alla fine si salverà anche se Oddo verrà esonerato e nelle ultime 4 gare sulla panchina dei bianconeri ci sarà Tudor è una sfida comunque bella quella tra i bianconeri rossoneri che all'inizio passano in vantaggio con un siluro dai 25 metri di suso che si insacca all'incrocio poi c'è il vemente contrattacco dei bianconeri sicuramente favoriti dall'espulsione sacrosanta di Calabria che commette un inutile ingenuo fallo da Tergo su Ianto ed era già monito ma il gol del pareggio dopo un'azione snella in velocità con tiro cross di Lasagna è favorito da un autogol del portiere Donna Rumma passano orale rappro spole un autogol che ti